Più di 700 tra religiosi e religiose, laici, sacerdoti, seminaristi e naturalmente i sette vescovi albanesi hanno accolto con entusiasmo Papa Francesco nella Catedrale di San Paolo a Tirana, secondo appuntamento del pomeriggio nel viaggio del Pontefice in Albania. Prima della celebrazione dei Vespri, il Papa ha ascoltato le testimonianze di Don Emest Simoni, che ha passato 27 anni nei campi di concentramento del regime comunista e della stigmatina Suor Maria Caleta, che battezzava di nascosto durante la persecuzione. Quindi ha consegnato il discorso preparato e prendendo spunto dalla lettera di San Paolo e Corinzi, inserita nei Vespri, ha invitato a chiedere ai due testimoni come hanno potuto sopravvivere a tanta tribolazione. Sono stati consolati da Dio Padre misericordioso, ha spiegato Papa Francesco, come Pietro in carcere, perché il popolo di Dio pregava per loro. Quando la Chiesa chiede al Signore di consolare il suo popolo, il Signore consola umilmente, anche nascostamente, consola con la fortezza. Per noi che siamo stati chiamati dal Signore per seguirlo da vicino, ha concluso il Papa, l'unica consolazione viene da Lui. Se voi cercate consolazioni in un'altra parte, non sarete felici. Di più, non potrai consolare nessuno perché il tuo cuore non è stato aperto alla consolazione del Signore. Nel discorso consegnato, il Papa ha detto di apprezzare l'impegno delle diverse realtà ecclesiali contro le nuove dittature che rischiano di tenere schiave persone e comunità, dittature come l'individualismo, la rivalità e i confronti esasperati che possono soffocare la carità e contagiare anche i cristiani. In tutti i campi dell'evangelizzazione è allora importante l'unità di intenti tra le diverse realtà della Chiesa. Mettete l'amore per Cristo al di sopra di tutto, è stato l'invito del Papa, e andate verso di Lui che ci viene incontro nei fratelli.